Gli studenti del liceo Parentuccelli non collaborano con il museo di Uccesano di Sarzanna soltanto tenendolo aperto nel corso dei mesi estivi, ma ha fatto molto di più. Hanno preparato e pubblicato la prima guida illustrata del museo. È opera loro, non solo, hanno anche creato e aggiornato l'originario rudimentale sito internet del museo. Il progetto per quanto riguarda la realizzazione del museo di Uccesano di Sarzanna è partito a settembre quando alcuni di noi sono andati a Pisa, all'università di informatica, per fare uno stage ed imparare programmi come HTML e CSS. Dopo una prima realizzazione del sito a mano ci siamo resi conto che sarebbe stato troppo complesso modificarne alcune parti e quindi abbiamo utilizzato uno strumento che fosse più accessibile anche a chi veniva da fuori e non ne sapeva niente come Google Sites. Infatti Google Sites è molto più facile, è molto più veloce e può essere lasciato con più facilità per chi non ha mai utilizzato e non ha mai modificato un sito web come altre persone che vengono dal liceo scientifico dove non si fa informatica. Noi abbiamo realizzato una prima versione del sito e in seguito cercheremo di migliorarla per renderla anche più accattivante a coloro che lo visitano. Per quanto riguarda la brochure noi abbiamo seguito un corso avanzato di Word dove abbiamo imparato a formattare tutti i testi dopodiché abbiamo inserito tutti i contenuti nella brochure e inserito un formato di stampa. Abbiamo anche realizzato personalmente le fotografie presenti in questa guida grazie a una mia compagna che ha messo a disposizione al museo i propri strumenti fotografici per creare immagini che non erano presenti su internet. Quindi il lavoro dei ragazzi è stato molto impegnativo soprattutto per quel che riguarda i contenuti. Si tratta quindi della loro realizzazione, si tratta di una produzione originale cioè hanno reperito tutte le informazioni storiche relative a queste opere. Il prossimo step, come hanno detto loro stessi, è invece rendere le informazioni più dinamiche e più consone a un sviluppo web.